Sei mesi, tanto è durata l'esperienza di Riccardo Martignago con la maglia del Teramo. L'attaccante infatti va in prestito all'Alessandria per la parte restante di questa stagione. Quella della cessione non poteva che essere lo sbocco inevitabile di un rapporto ormai deteriorato. L'attaccante fuori dal progetto tecnico di Bruno Tedino non era stato convocato per gli ultimi due impegni del Diavolo contro Catanzaro e Cavese. Nonostante la partenza di Cianci potesse mettere il tecnico nelle condizioni di doversi affidare al numero 10, viste le difficoltà offensive. In questi giorni Martignago si è allenato ma ha separato rispetto al gruppo dei compagni di squadra in stretto contatto telefonico col suo procuratore Paolo Tricoli, che ha ricevuto parecchie chiamate da società di Lega Pro che ambivano le prestazioni della punta che dal Bissola aveva disputato una stagione di altissimo profilo convincendo proprio il Teramo a puntare su di lui in estate per la prima linea. L'8 agosto scorso la firma sul contratto biennale per l'ex Bordenone, ma poi 18 presenze e un solo gol in campionato su calcio di rigore a fine ottobre contro la Virtus Francavilla hanno convinto la dirigenza a fare a meno di lui. In realtà, prima delle due mancate convocazioni, ci sono state le panchine con Sicula, Leonzi e Avellino ad inizio del 2020, che avevano ancora di più rafforzato l'idea che Tedino non contasse più sul numero 10. Ora Martignago torna nel girone A, quello che potrebbe rilanciarlo in grigio con l'11 di Angelo Gregucci e quello che si augura il Teramo, perché terminata l'esperienza piemontese il ragazzo tornerà in Abruzzo e a quell'epoca il diavolo spera di riavere un giocatore diverso da quello visto fino a questo momento.